Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un plugin davvero nuovo perché infatti è uscito appena ieri. Parliamo di Silk Vocal, plugin molto interessante prodotto dalla Waves e soprattutto è gratuito. È uscito per questo Black Friday, se siete iscritti alla mailing list della Waves sicuramente vi saranno arrivate varie mail che vi avvisavano che sarebbe uscito un plugin gratuito, bastava appunto iscriversi. Potete ancora scaricarlo, non so per quanti giorni rimarrà a disposizione e poi magari diventerà a pagamento, quindi vi invito ad affrettarvi. Molto bello, interessante, andiamo a scoprirlo. Eccoci sull'interfaccia. Il plugin è dedicato al processamento della voce, quindi nella catena di operazioni che può fare troviamo quello che spesso faremmo su una voce, in modo però molto semplificato perché non ci sono una marea di controlli ma sono davvero efficaci, molto belli da utilizzare, quindi è molto comodo. Troviamo principalmente due modi di utilizzare il plugin, dedicato alle voci maschili e femminili, quindi tutto il processo che ci sarà sul file audio, sulla registrazione, sarà leggermente diverso in base alla voce lui vada ad adattarsi un po' meglio, come se fossero due preset. Troviamo basse, medie e alte. Innanzitutto possiamo mettere in bypass la singola banda e quello che farà il plugin sarà andare a processare le basse, le medie e le alte in modo differente utilizzando solo questo controllo. Troviamo poi anche la cuffia che ci permette di ascoltare direttamente solo le basse, solo le medie o solo le alte. Potete fare la stessa cosa anche tenendo premuto alt e modificando il parametro. Come funziona? Come ci consiglia la riga che vedete qua in basso? Nella parte bassa riduce l'effetto di super basse frequenze che danno fastidio, vanno ad ingolfare un po' la voce, danno quell'effetto boomness o madness che sarebbe l'effetto fangoso. Sicuramente è più facile ascoltare che descriverlo. Poi troviamo le medie frequenze, in questo caso dobbiamo utilizzare questi due parametri per dargli un certo intervallo di lavoro, quindi come ci consiglia qua va a togliere l'archness, ovvero quella parte di medie frequenze che possono dare fastidio. Nella parte delle alte frequenze abbiamo due modalità o la riduzione delle risonanze sibilanti che appunto troviamo con questo simbolo oppure in questo caso qua va a fare un high shelving che ci permette di tagliare la parte sotto le 4 kHz, sempre modificando questo parametro. Troviamo poi le dinamiche che funziona più o meno come l'RVox, cioè abbiamo un solo parametro che va ad abbassare la threshold, va allo stesso tempo probabilmente aumentare la ratio, non so esattamente cosa faccia, però è efficace. Se vogliamo evitare di ridurre la dinamica, quindi farlo comprimere di più e far salire il volume possiamo utilizzare questo parametro che va in concomitanza ad abbassare l'output in modo da livellare meglio e non farci fregare magari pensando di avere un suono incredibile ma è solo il volume che si è alzato e basta. Poi troviamo l'ultimo parametro in questa schermata che è Listen to Reduce Signal, ovvero ci permette di ascoltare solo la differenza che abbiamo, nel senso che sentiamo solo il processo che abbiamo applicato senza sentire la parte dry. Se andiamo in questa freccettina e all'inizio non l'avevo neanche vista, andiamo ad aprire le impostazioni avanzate. Allora questo ci applica subito un high pass filter a 60 hertz che di solito possiamo mettere appunto per togliere subito le bassissime frequenze. Speed ci permette di aumentare l'attacco quindi velocizzare o rallentare l'attacco e la release del processo di tutto quello che va a fare il plugin, precision, aggiusta anche questo in un modo un po' più stretto, un po' più largo, più morbido, make up in questo caso è automatico già di base, un gate se abbiamo del rumore e un mix dry wet. Adesso andiamo a sentire come funziona. Partiamo, adesso è tutto in bypass, vi faccio sentire la voce dry e iniziamo a modificare i parametri. Già questo low nel momento in cui andiamo a sentire meglio le basse mettendole in solo ci rendiamo conto che effettivamente c'era qualcosa proprio sotto che poteva darci fastidio. Con questo l'abbiamo rimosso, vedete come si adatta perfettamente, ci fa anche vedere attraverso il grafico quello che accade e va a ripulire molto bene la voce in basso. Proviamo sulle medie. sentite sulle S. sentite sulle S. sentite sulle S. in questo modo riusciamo a sentire la differenza da quello che era la parte iniziale. Allora, secondo me è un plugin che non per forza va usato con parametri estremi. Infatti, se noi stiamo un po' più leggeri, va a livellare queste cose che possono dare fastidio senza intervenire troppo, ma funziona, è molto trasparente. mi sembra che la voce sia molto più a fuoco, sia più definita, sia un po' più presente. Ovviamente stiamo comprimendo, stiamo ripulendo, quindi è giusto che accada questo, però comunque lo stiamo facendo in un modo molto semplice e questa cosa può essere sempre comoda. Andiamo un po' a vedere questo il filtro. Andiamo a vedere nel momento in cui vogliamo lavorare più o meno veloci cosa succede. vedete qua, anche in questi grafici, cosa cambia. Slow, a volte non si accende neanche perché è troppo lento l'intervento. se metto su fast, quindi al minimo, agisce molto velocemente. vedete che slow, magari con dei parametri un po' più forti, comunque risulta sempre abbastanza trasparente, infatti a me piace un po' di più verso questo, verso i tre quarti. Ovvio che dipende quello che dovete fare, dipende dalla voce, dipende dai problemi che ha, quindi non c'è un parametro universale. Anche precision vi dice anche che verso sharp potrebbe introdurre degli artefatti, quindi un effetto brutto come risultato, quindi stiamo un po' più morbidi e secondo me questo plugin funziona molto bene per un effetto abbastanza morbido, un po' di livellamento, un po' di pulizia. Poi troviamo il gate nel caso in cui avessimo un rumore o un classico dry wet, quindi ce n'è per tutti i gusti. Direi che per essere un plugin totalmente gratuito è molto molto bello. Mi ha stupito, in realtà non pensavo che, quando l'ho visto la prima volta ho detto è un plugin come tutti gli altri, sì c'è un compressore, va un po' a fare una pulizia, però effettivamente lavorandoci un po' sopra ho notato che è molto comodo da utilizzare, efficace, semplice, leggero, veloce. Mi sa che lo utilizzerò spesso perché soprattutto magari sulle voci parlate può essere comodo per livellare un po' meglio, ripulirlo un po' anche sui cantanti, devo provarlo magari su altri strumenti, potrebbe essere utile anche se comunque è dedicato e pensato per la voce. In ogni caso qua sotto trovate il link per scaricarlo, spero che siate ancora in tempo per scaricarlo e fatemi sapere se l'avete già utilizzato, se lo scaricherete, cosa ne pensate e ricordatevi di iscrivervi al canale. Ci vediamo nel prossimo video, ciao!